È stato bocciato il ricorso del Piacenza in merito al caso pergolettese Triestini in Serie C, una bocciatura parziale a dire il vero e che sembra non entrare nel merito della questione ma analizza soltanto le tempistiche. Facciamo chiarezza, il Piacenza chiedeva di bloccare l'inizio dei play-out al quale prende parte la Triestina opposta al San Giuliano City in quanto l'eventuale penalizzazione degli alabardati per i fatti successi al Voltini di Crema porterebbe al ripescaggio in post-season proprio dello stesso Piacenza che ha invece retrocesso indico l'ultimo posto a causa dei due gol segnati dalla Triestina a Crema nei minuti di recupero. I play-out invece si giocheranno regolarmente con la gara di andata prevista per sabato pomeriggio. Ciò non significa che la Triestina è in salvo perché il 9 maggio, ossia martedì, è prevista la decisione della Procura federale in merito alla gara contestata. In buona sostanza il Tribunale non può essere anche organo inquirente oltre che decisionale e decide sulla base dello stato dell'arte. La Procura invece, organo che deve indagare, potrebbe cambiare le carte in tavola ma non prima di martedì 9 maggio appunto. Cosa potrebbe accadere? In teoria potrebbero essere bloccati i play-out dopo aver giocato il match d'andata che a quel punto potrebbe essere poi annullato e perdere di valore. Altrimenti, più probabilmente, l'alternativa è di far giocare i play-out e poi, in caso di salvezza sul campo della Triestina e di successiva penalizzazione dei Giuliani, salvare la sfidante diretto, ossia il San Giuliano appunto. In questo caso, zero chance di ripescaggio per il Piacenza. La bocciatura del ricorso del team emiliano tocca soltanto parzialmente la pergolettese che dal canto su si dice tranquilla avendo presentato per prima l'esposto in procura e attende la data dell'11 maggio quando, salvo improbabili scossoni, giocherà il primo turno play-off in casa del Padova.